ciao fiorellini e fiorelline adesso facciamo un video trucco perché dopo faccio un video dove faccio un video mi preparo con voi pure questo video di trucco ok prima di tutto ci mettiamo il mio fondotinta ma quando questo mese non so comprare vestiti non posso comprare trucchi però se tante volte la gara ordina qualche cosa sul sito mi faccio ordinare qualche trucco nuovo per fare i video per voi ok ho già queste cose qua perché se truccarmi e non mi vicino la fotocamera così possiamo iniziare a truccarci per farvi vedere di più l'avvicino proprio lungo qualcosa perché sennò non mi si vede ok adesso ci ritiriamo prima sui capelli per truccarmi allora il fondotinta è 3 speriamo che mi si vede bene perché mi sono messa troppo un po troppo vicino per farmi vedere allora prima di tutto il fondotinta dopo quando vedo il colore sopra l'occhio vicino per farvelo vedere adesso ci mettiamo prima di tutto il fondotinta mettiamo bene è la prima volta che mi trucco con questo colore di capelli ok adesso ci siamo messi questa cosa qua e adesso ci mettiamo questa trussa piccolina quando facevo avu l'avevo comprata non sono solo l'acqua non sono solo l'acqua non sono solo l'acqua scusate che farò sempre un casotto vedere vediamo vediamo che trucco che prendiamo il coso per truccarci oggi ci trucchiamo un po' verde prima di tutto ci mettiamo questo qua prendiamo questo e me lo metto qua grazie a tutti ok poi ci mettiamo questo più chiaro in mezzo alla palpebra questi pennelli di questo sito sono morbidissimi e alla fine prendiamo questo più chiaro no bianco avana e lo mettiamo qua il corpo è il luminario ok ok eccoci voilà metto dentro e adesso metto questa abbiamo trovato il blush sempre il stesso blush perché non ho altri blush il blush questo lo prendiamo un po' io ce lo mettiamo mettiamo qua ok io li metto sempre dentro le bustine perché si vengono bene io li metto tutto il tetto qua questo lo dovrò lavare perché mi sono stucca già due volte adesso ci mettiamo ma Mark Blink Blink flash light questo è che sempre diamo questo è il numero che diamo se si vede non si vede di questo si vede si vabbè è un rim non è viola è nero è un rim e ce lo mettiamo Il problema mio è che non ho le ciglie, ce le ho cortissime, mi ha detto pure che non ho comprato i trucchi, il problema mio è quello. Poi l'ultimo cosa ci dobbiamo mettere è il rossetto, questo qua è vecchio, da me che ce l'ho, addirittura ho pagato 1 euro i 90 centesimi, l'ho comprato dai cinesi, c'è proprio un buro qua, sto nella adolescenza, è il 59 centesimi, non so se si vede, vabbè 59 centesimi e ci mettiamo il rossetto, perché si ha messo per farmi vedere la faccia, non essere sfocata sulla faccia, perciò è difficile a farlo vedere. Questo qua è come, il più del rossetto sembra come un burro cacao, non è come quelli di marca che sono cremosi, che sa, più secco. Ok, tutto qua dentro, il trucco è fatto così, speriamo che si vede, non è pesante, ok, ecco, mi piace? però di sì, ditemi il cosiddetto, comunque, pure questo video è finito e spero che vi è piaciuto e che vi è fatto compagliere più di tutto in questo periodo che stiamo della storia, non so quando metto questo, però penso che ancora sono a casa. mettetemi tanti like, se vi è piaciuto iscrivetevi al mio canale, mettete la campanellina per non perdere nessun video, e adesso vi posso lasciare fiorelline e ciao al prossimo video. Mica Passo! Mica Passo! Grazie a tutti